Pronti via, il San Nicolò è subito pericoloso con Petronio che tenta la conclusione da fuori aria e sfiora l'incrocio dei pali. Pronta la risposta dei padroni di casa, dopo uno scambio tra Cucurullo e Tiberi, quest'ultimo va al cross sul quale Moro interviene con una spettacolare rovesciata sfiorando l'incrocio dei pali. Al quarto d'ora, miracolo di Biancone sulla cuorrispinta si avventa Bagnar che colpisce la parte della traversa. La partita però viene fatta dal San Nicolò che costruisce diverse palle gole alla quale rimedia, più di una volta, Biancone. In altre sono gli stessi giocatori del San Nicolò a spiegare malamente. Aria giunge per merito di una caparbia azione di Petronio che danza con la sfera sul limite dell'area, salta tre avversari e caccia sul palo opposto battendo l'incolpevole estremo difensore. Pochi minuti più tardi è ancora Petronio che ci prova dai limiti dell'area, a palla esce ancora fuori di poco. Finisce dunque la prima frazione di gioco con il risultato di 1-1, la netta sensazione è che il punteggio stia un po' stretto agli ospiti. Nella ripresa di Paolo cambia gli ometti con Angelini, spostando Tiberi al centro e le cose sembrano funzionare. I locali cercano maggiormente le vie della rete, mentre San Nicolò incontra qualche difficoltà in più rispetto al primo tempo. Tutto questo al 25esimo del secondo tempo, quando il San Nicolò trova il gol del raddoppio con Di Paolo Antonio, il quale, lasciato tutto solo in area di difensori locali, non deve fare altro che calciare la parra in rete, raccogliendo un cross proveniente dalla destra. La indizia Luco potrebbe pareggiare subito con la conclusione di Tiberi, ma Bacciaglia è bravo a respingere, mentre al 32esimo è di nuovo il San Nicolò ad andare in rete, questa volta con il Leo è entrato Lalli, autore di una punizione dei 30 metri con la palla che termina sotto l'incrocio dell'incolpevole Biancone. La gara ormai è in salita per i padroni di casa che però non demordono ed accorciano al 42esimo con De Carolis, il quale ribadisce in rete un tiro sporco di Cannatelli. Negli ultimi minuti si assiste quindi ad un forcing dell'angizia Luco che tende a dipareggiare in tutti i modi. I locali sembrano riuscirci al terzo minuto di recupero con Cannatelli il quale, con un dribbling, si presenta davanti solo a Bacciaglia e calci a botta sicura, ma sulla linea trova un difensore che respinge il pallone e di fatto sancisce la seconda sconfitta interna consecutiva per i biancazzurri.